cosa vuol dire amare il prossimo dargli sostegno materiale e aiuto spirituale non solo per aiutare qualcuno veramente bisogna insegnargli a volare con le sue ali la sua dignità sta nel diritto ad essere indipendente e a sostenersi con il lavoro delle proprie mani dobbiamo imparare a vedere nel bisognoso l'immagine di dio e gesù che soffre nell'altro la fame il freddo e le malattie impegnati nell'aiutare laddove è possibile secondo le tue forze ciascuna persona che avrà bisogno del tuo sostegno